Questa è un'edizione assolutamente arricchita, è una festa che dedichiamo a tutta la città, a tutti i target, una festa intergenerazionale. Si tratta di un grande show, uno show all'interno di un villaggio celtico, non è una festa della birra. E ci teniamo a dirlo perché tutto, dalla musica all'amplificazione, a tutte le strutture, è fatto con grandissima qualità. Una grandissima qualità attenzione verso le esigenze del pubblico, grande attenzione ai bambini, grande attenzione alle famiglie, grande attenzione ai giovani. È una manifestazione che vogliamo vivere tutti insieme. Viverla attraverso tutti i cinque sensi, dicevi prima. Cinque sensi sì, perché questa manifestazione vuole essere un percorso emotivo, dall'ingresso all'uscita. Cerchiamo di coinvolgere il gusto, chiaramente con le specialità irlandesi, reinterpretate anche nel gusto italiano. Nell'animazione, con animazione di strada, giocolieri, ovviamente tanta tanta musica nei tre palchi, più la musica di strada affidata a grandi professionisti che richiameranno un po' lo spirito di Dublino. Per poi pensare appunto alle emozioni, alla cultura, alle conferenze. È un villaggio che porterà in un viaggio unico, che accenna anche alla primavera. Infatti il successo di Lannifesta è anche un po' l'idea di uscire finalmente, torna al sole, torna alla voglia di uscire e di stare insieme. E tanti eventi che si svolgeranno, anche questa è una novità, appunto anche in città. Sì, allora nell'area verranno sviluppate quasi 210 ore di musica a partire dall'11 di marzo. E poi quest'anno vogliamo vestire anche la città di Verde. Infatti la musica e lo spettacolo inizieranno già dal centro città. Infatti ci sarà un collegamento ideale dalla città fino al Gran Teatro Geox, proprio la musica che unisce e porta a questa grande celebrazione. E anche lezioni d'inglese. Sì, una novità di quest'anno in collaborazione con Oxford School è quella di lezioni d'inglese dedicate alcune ai bambini, quindi in particolare nel weekend ci saranno delle lezioni per i bambini e poi anche per gli adulti. E quindi è un modo proprio per far capire che questo Lannifesta siamo noi, siamo noi e poi l'apertura all'inglese, lingua ormai universale. Ultimissima cosa, tantissimi saranno i fruitori, quindi qualche consiglio per raggiungere più comodamente, più agevolmente il Gran Teatro Geox? Anche quest'anno abbiamo predisposto dei servizi navetta e cercheremo potenziali negli orari di punta, in particolare nel weekend. Io posso solo dare consiglio che Lannifesta inizia all'undici, non fate solo il weekend, venite anche durante la settimana, perché le attività, ci sono tantissime belle cose da scoprire anche durante i feriali, infatti l'area sarà aperta a partire dai 18, dai feriali, poi ovviamente ci saranno anche le mattine nei festivi. Vi aspettiamo, venite, utilizzate gli autobus, utilizzate mezzi alternativi, lo spazio c'è e ci divertiremo tantissimo.